E' partita questa mattina alle 5.30 dal Castelluccio, simbolo di Battipaglia, l'avventura dei ciclisti dell'Associazione I Mufloni, che giungeranno fino al Vulcano dell'Etna. Un gruppo eterogeneo di eclettici amanti delle due ruote, composto da affermati professionisti, imprenditori, artigiani, operai e commercianti, è partito carico di entusiasmo. L'avventuroso team è unito dalla passione e dal desiderio di condividere l'amore per la natura, la libera pedalata e la voglia di condividere assieme questa singolare iniziativa. Lo scorso anno i Mufloni raggiunsero da Battipaglia la città di Siena. Il gruppo, capitanato dal presidente dell'Associazione Valerio Visconti, raccoglie amici dai 40 ai 60 anni. È una tradizione che stiamo avendo oramai da tre anni a questa parte. Partiremo da Battipaglia e nel giro di quattro giorni percorreremo oltre 700 chilometri per arrivare fino alla cima dell'Etna in Sicilia. I Mufloni di Battipaglia è un'associazione giovane di amanti delle due ruote della bicicletta. Partiamo qui proprio simbolicamente dal castelluccio di Battipaglia perché il nostro è un viaggio simbolo. Il fatto di voler raggiungere mete diverse è un'occasione per metterci alla prova e per stare insieme, che è il vero piacere della nostra associazione, vivendo dei momenti insieme, dei momenti all'aria aperta, dei momenti sulla strada. E soprattutto in questo viaggio noi abbiamo l'obiettivo di collegare con una lunga fila di puntini quelle che sono le perle del nostro martirreno del Mediterraneo. Oggi partiamo alla volta di Maratea e di Praia a Mare. La tappa successiva sarà quella da Praia che ci porterà fino oltre Tropea. La terza giornata sarà quella che invece ci porta da Tropea fino in zona Taormina. E l'ultima sarà quella più impegnativa e più sfidante che è quella proprio di riuscire a salire anche le rampe fino alla vetta dell'Etna. L'anno scorso siamo arrivati in tre giorni a Siena e quest'anno ci ripromettiamo di fare qualcosa di ulteriormente ambizioso, ancora più ambizioso. La nostra idea è proprio quella di mettere insieme tra di noi questo gruppo di 15 persone che hanno questo seme di follia, che vogliono raggiungere dei risultati diversi. Siamo persone di età differenti dai 40 anni agli ultra 60 anni, tutti con lo stesso spirito, goliardi, con la stessa voglia di sfidare innanzitutto noi stessi. Non siamo un gruppo competitivo ma un gruppo che ha un unico vero obiettivo, quello di avere il piacere di stare insieme. E soprattutto vogliamo dimostrare dal simbolo del sud, dal simbolo della nostra città battipaglia, che se abbiamo voglia, abbiamo volontà, abbiamo anche uno spirito di squadra, uno spirito di solidarietà, non abbiamo obiettivi che ci sono preclusi. Grazie.